signora abbiamo finito può andare arrivederci signora mi ha chiamato l'asle di teramo per fare lo screening del tumore a seno l'ho fatto senza liste d'attesa senza l'impegnativa del medico senza dolore ed è gratis è proprio vero lo screening ti salva la vita quando vi telefonano rispondete e andate si chiama screening e salva la vita